ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò come creare un portale in minecraft noi giocheremo in creativa ma per chi non lo sapesse per procurarsi un quotidiana in sopravvivenza basterà a mettere il fuoco sull'acqua in questo modo allora iniziamo avremo bisogno di ossidiana e acciarino dovremo creare un portale 4 x 5 ecco entriamo questo è l'altro mondo una cosa particolare di questo mondo è che si metteremo il letto adesso ve lo faccio vedere e lo cliccheremo salterà tutto in aria ok questo video è terminato spero che vi sia piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale ok